Oh, fiorelline, fiorelline, con quell'altro che scappa via, guerrino! E' da fare buongiorno! Buongiorno! Che facciamo oggi? Fiorelline, fiorelline! Che facciamo oggi? Non facciamo niente! Non facciamo niente! Eddo! Ecco, bello! De chi? 18 anni, mi! 66 anni, oggi festeggiamo, era lunedì, però festeggiamo oggi! Adesso via la sigla e ci vediamo dopo! Abbiamo fatto colazione, ragazzi, si è presa tramezzino col tè e satè. Guerrino si è preso un cappuccino con la pasta al cioccolato e io mi sono presa un caffè agge con la bomba alla crema oggi. Di solito io ho anche colazione, faccio la mattina. E adesso andiamo a... Ragazzi devono andare a prendere l'acqua, però prima devo portare l'acqua a casa, se mette il cappello, dopo aspettiamo e andiamo tre a nevi a prendere l'acqua e poi ritorniamo e poi a mezzogiorno e mezzo devo andare a prendere la torta. Oggi è il compleanno di guerrino! Ciao a ciao! Grazie a tutti! Ecco abbiamo fatto la festa a guerrino, adesso metto subito il video così questa sera lo vedete subito e buona domenica a tutti, buona cena e buon proseguimento di giornata. Abbiamo fatto la festa a ora di pranzo, ciao! Grazie a tutti!